E' lo so, e' lo so, e' lo so, e' lo so Io ho 50 anni, siete due di merda, non mi fai parte Mi vedete a chiedere due e tre, voi siete una banda di tessi di merda Oltre che siete lo scandagolchissimo, qual è chi vi vuole? E' chiaro o no? E' chiaro? Voi siete delle merda o vuole? E' una squadra di promozione, parlate solo, voi parlate solo Voi parlate solo, voi siete scandalosi, voi siete vergogliosi Voi parlate, voi camminate in mezza, contro una squadra di promozione Perché parecchi di voi non possono giocare niente in questa squadra Nemmeno l'uno contro l'unico, contro l'unico finale Domani mi dica a chi ora dovete arrivare al campo Il primo che ti ha, giro sui figli, di caccio Contro una squadra di promozione, vergognatevi, voi non siete negli La squadra di promozione Io vi squarto, se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia Io vi squarto, a quante più ce ne state A parlare, buh 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 Siete scandalosi Non siete in grado di superare nell'uno contro uno Un giocatore di promozione Siete lo scandalo Figure di merda come queste nella mia vita non ne ho mai fatte Nessuno che si permetta il premio Iva Giastandà Il premio che vi ho portato Di cui apparecchi di voi I Vescan si perdono la cattarezza Vi giuro sui figli Vescan Ne metto dieci fuori lista Direggi Decidì Decidì che io mi rimanavo a di là, veramente